Buongiorno. Buongiorno. Dove si trova l'ingresso? O'è l'entrée? Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Mi chiamo. Je m'appelle? Sono stanco. Je suis fatigue. Buon pomeriggio. Buon après-midi. Salute. Soyez béni. Vai dritto. Allez tout droit. Grazie. Je vous remercie. Com'è stata la tua giornata? Comment était ta journée? Capisci? Comprenez-vous? A destra. A droite. Ovviamente. Bien sûr. Dov'è il bagno? Où se trouvent les toilettes? Dove sono i taxi? Où sont les taxi? Dov'è l'uscita? Où est la sortie? Buona giornata. Buon giornay. Per favore. S'il vous plai. Mi dispiace. Je suis désolé. Sono assietato. J'ai soif. Prego. Vous êtes les bienvenues. Nessun problema. Aucun problema. In bocca al lupo. Bonne chance. Salvarla. Sauvegarde-le. Come stai? Comment allez-vous? Sto bene e tu? Je vais bien e vous? Addio. Au revoir. Mi scusi. Pardon. Non capisco. Je ne comprends pas. Prego entra. Veuillez entrer. Piacere di conoscerti. Ravi de vous rencontrer. Buon appetito. Bon appetit. Fermati qui. Arrêtez ici. Quanto costa? Combien ça coûte? Ti piace? Aime-tu? Arrivederci. A plus tard. È tuo. C'est le tien. È mio. C'est à moi. Devo andare. Je dois y aller. Abbastanza. Assez. Non mi piace. Je n'aime pas ça. Ho fame. J'ai faim. Molte grazie. Merci beaucoup. Capisco. Je comprends. È facile. C'est facile. Benvenuto. Bienvenue. È difficile. C'est difficile. Ci vediamo domani. Rendez-vous demain. Perché no? Pourquoi pas? Mi piace. Je l'aime. Quando arriviamo? Quand arrivons-nous? Che sorpresa. Quelle surprise. Molto bene. Très bien. Molto brutto. Très mauvais. A presto. A bientôt. È presto. Il è tôt. Ho un appuntamento. J'ai un rendez-vous. Che peccato. Quel dommage. Non lo voglio. Je n'en veux pas. Per favore, siediti. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Credo di sì. Je le pense. Forse è più tardi. Peut-être più tard. Ho finito. J'ai fini. È stato divertente. C'était amusant. Può essere. Peut-être. Aiuto. Aidez-moi. Anch'io. Moi aussi. Sei molto gentile. Tu es très gentil. Che ore sono? Quelle heure est-il? Quando andiamo via? Quand partons-nous? Calmati. Calmez-vous. Aspettami. Attends-moi. Mi sono perso. Je suis perdu. Oggi. Aujourd'hui. Domani. Demain. Ieri. Hier. Non lo so. Je ne sais pas. Perchè. Pourquoi? La prossima settimana. Prochaine semaine. Sbrigati. Dépêchez-vous. Prenditi il tuo tempo. Prendi ton temps. È per te. C'est pour vous. Io non la penso così. Je ne pense pas. Solo un peu. Juste un peu. Oggi lavoro. Je travaille aujourd'hui. È tardi. Il est tard. Non ti preoccupare. Ne t'inquiète pas. Mi hai spaventato. Tu m'as fait peur. Prendilo. Prendle. Non mi interessa. Je m'en fous. Lo voglio. Je le veux. Sei sicuro? Eete-vous sûr? Non sono sicuro. Je ne suis pas sûr. Qualunque altra cosa? Rien d'autre? Sto aspettando. J'attends. Costa poco. Ce n'est pas cher. È costoso. C'est cher. Dimenticalo. Oublie. Buon lavoro. Bon travail. È fantastico. C'est genial. Sono occupato. Je suis occupé. Sono libero. Je suis libre. Sono single. Je suis célibataire. Io sono sposato. Je suis marié. Qualche volta. Quelquefois. Je suis marié. Je suis marié. Grazie a tutti.